Il ferroviere agropolese risultato positivo al coronavirus è deceduto questa mattina per un arresto cardiaco a seguito di una grave crisi respiratoria. Alfonso Migliorino, da tutti conosciuto in città, lascia in tutta la comunità un grande vuoto. Era stato ricoverato la scorsa settimana in gravi condizioni presso l'ospedale San Luca di Vallo della Lucania nel reparto di rianimazione e le sue condizioni erano da subito apparse gravi. Su di lui era stata applicata anche la terapia sperimentale con il farmaco Tucilizumab. Alfonso lascia la moglie e i figli. La redazione di Cilento Channel è vicina in questo momento a tutti i familiari per la grande perdita. Alfonso era un amico, una persona cara. Ricordiamo con affetto il suo impegno verso gli altri. Dalle esperienze che si fanno da ragazzi a volte si sente proprio la condizione di potersi anche in qualche modo impegnare o fare delle attività, delle cose per cercare di migliorarsi, di migliorare quello che ci circonda. Quindi alla fine si sente l'esigenza di fare qualcosa per l'altro.